Buongiorno ragazzi e benvenuti a questa nuova lezione di Epica. Siamo sul vostro libro, a pagina 156. Titolo della lezione, Il canto delle sirene. Per fare una breve introduzione, ho pensato di mostrarvi questo video. Allora ragazzi, il video non è possibile vederlo, cioè non lo posso caricare. Voi dovete andare su YouTube e cercare Odissea parte 5 di Cesa Agli Inferi. Comunque vi metto il link sul PDF che vi ho mandato in didattica. Adesso dobbiamo saltare questa parte, tutto il documentario che poi vi vedrete per i fatti vostri. e ricominciamo la lezione qui. Bene ragazzi, allora, sì lo so che sono un po' romanzati questi filmati di History Channel, però alla fine non sono male. Allora, torniamo al nostro libro. Dove ci troviamo? Ci troviamo in Italia, a livello geografico, almeno gli storici l'hanno individuata come una zona in Italia, questa delle isole delle sirene. mentre riguardo alla storia è dove ci troviamo. Allora, come al solito, brevissimo riassunto delle puntate precedenti. Scusate. La guerra di Troia è finita. Ulisse parte con i suoi compagni, arriva dai Ciconi, poi ci sono i lotofagi, vi ricordate quelli che mangiano quella polverina che fa dimenticare la patria, dopodiché arrivano nella terra dei Ciclopi, dove accecano Polifemo, poi vanno nell'isola di Eolo, vi ricordate quella famiglia con tutte quelle capigliature vaporose. Si sbagliano, i compagni di Ulisse aprono l'Otre con i venti, vengono ributtati in mezzo al Mediterraneo, finiscono nella terra dei Lestrigoni, anche quelli giganti antropofagi, cioè mangiatori di uomini, ma con due occhi, questa volta. Scappano dai Lestrigoni e finiscono sull'isola di Ea, dove vive la maga Circe, che trasforma i compagni di Ulisse in maiali e li tiene lì comunque per un anno. Dopodiché la maga, quando è ora di far partire Ulisse, lo invia nell'oltretomba, Ulisse scende nell'Ade, ascolta i consigli dell'indovino Tiresia, parla con Achille e poi scappa dall'isola di Circe. A questo punto sta navigando e incontra l'isola delle Sirene. Siamo, ve l'ho scritto qui ragazzi, al libro dodicesimo dell'Odissea. Siamo proprio nel cuore dell'opera. L'Odissea è fatta da 24 libri, che vi ricordo non sono i libri come li intendiamo noi, ma sono i capitoli. Qui siamo esattamente al centro. Circe, ve l'ho segnato qui sopra, ha questo passaggio nelle funzioni di prop, se vi ricordate. Cioè, passa dal ruolo di antagonista, che tiene il prigioniero Ulisse, che trasforma i suoi compagni in maiali, eccetera, eccetera, ad aiutante. Perché gli dà tutta una serie di consigli, eccetera, eccetera. Uno di questi consigli, ricordiamocelo, è quando sarai scappato dalle sirene, quando sarai scappato da Scille Cariddi, arriverai su un'isola piena di mucche, tormentati dalla fame, i tuoi compagni avrete la tentazione di uccidere queste mucche e farvi una bella grigliata sulla spiaggia, ma dovete resistere, perché quelle mucche sono sacre, e se le mangerete non tornerete mai più a Itaca. Allora, leggiamo questa parte e poi vi faccio vedere qualche immagine. Odisse e i suoi giungono presso lo scoglio delle sirene, dopo l'isola di Ea, mostri terribili con il corpo d'uccello e la testa di donna, che con il loro canto fanno naufragare tutti i naviganti. Seguendo le ingazioni di Circe, Odisse ordina i compagni, quando saranno in possibilità dello scoglio dei mostri, di legalo all'albero della nave, Ulisse chiuderà le orecchie dei compagni con dei pezzetti di cera e soltanto lui potrà ascoltare questo canto senza rischi. Cosa c'è in primo piano? Qual è la tematica? Il tema di questo episodio è la sete di conoscenza, che anima l'uomo nelle diverse vicende della sua vita, dopo lo vedremo meglio sul testo. Odisse rivela ai suoi uomini i segreti di Circe perché possano usarli per salvarsi, oppure, se salvarsi non sarà possibile, perché almeno muoiono conoscendo nel motivo. Poi lo vedremo meglio sul testo, anche questo. La conoscenza per un personaggio come Odisseo è sempre l'opzione migliore, la scelta migliore, in qualsiasi circostanza. Ed è proprio su questa sete di conoscenza che faranno leva le sirene. Allora, innanzitutto, quando parliamo di sirene, ragazzi, la prima cosa che dovete fare è cancellare dalla memoria l'immagine della sirenetta di Walt Disney. Il libro è molto chiaro, sono mostre terribili con il corpo di uccello e la testa di donna. Vediamo qualche immagine. Eccolo qui. Questa è una statua. Corpo di donna, ma le ali di uccello. Vedete che ha una lira tra le mani, quindi comunque l'attributo è il canto. questo è un vaso a figure rosse, celebre, celeberrimo, con Ulisse legato all'albero della nave, i compagni che remano, e la sirena, le sirene anzi, che lo tentano di ghermirlo, cioè di rapirlo. Vedete, hanno il corpo di uccello, ma la testa di donna bellissima. E no, qui sono già andato troppo oltre. Allora, cominciamo a leggere. Vi ricordo, sono appena scappati dall'isola di Circe, dove si sono fermati un anno. Dopo una breve navigazione, Ulisse comincia a pensare. Noi, manovrati presto tutti i paranchi, che è l'immagine di prima, che cos'è un paranco? È questa roba qui. Si usa anche in Valsesia, per fare legno, per sollevare grossi carichi. È praticamente un demoltiplicatore di forze. Questo è un paranco in legno, ho scelto appunto questa immagine, perché somiglia un po' a quelli che probabilmente usavano i greci. Lungo la nave stavamo seduti. Il vento e il pilota la dirigevano. Ma Ulisse pensa e dice, ma io e i compagni parlavo sconvolto nel cuore. O cari, non devono conoscere uno o due soli i fati che a me svelò Circe, la Dea Luminosa. Cioè, pensandoci bene, dice Ulisse, io non voglio che voi muoriate nell'ignoranza, che io solo sappia quello che Circe mi ha detto e tutti i segreti che mi ha rivelato. Circe la Dea Luminosa, epiteto. Ma io dirò questi segreti, che, che significa affinché, possiamo o morire sapendolo, o scampare evitando la morte e le chere. Quindi dice, comunque, io voglio comunicare insieme a voi, voglio condividere con voi questi segreti di Circe. Affinché possiamo morire sapendolo, cioè, anche se dovremo morire, almeno moriremo con queste informazioni in più, conoscendo queste cose in più. Quindi, il valore della conoscenza, che riesce ad addolcire persino un'esperienza tremenda come la morte, la morte è tremenda, ma se noi moriamo sapendo alcune cose, forse sarà un po' meno tremenda, oppure sopravvivere, evitando la morte e le chere. Le chere che cosa sono? Sono delle idee, le idee della morte violenta. Ce le presenta Omero, nell'Iliade, in mezzo a tutte quelle battaglie. Le chere sono quelle che, a un certo punto, quando uno degli eroi viene sconfitto e muore, si portano via la sua anima, e non hanno un potere autonomo, ma sono al servizio delle moire. Vi ricordate le moire? Quelle tre donne vecchie, che passano tutta l'eternità a filare il destino degli uomini. Cloto, la Chesi, e Atropo. Una che fila, l'altra che tesse, e Atropo, la terribile, che taglia il filo. aveva anche trovato un'immagine, eccola qui, delle chere. Non è molto bella, ma potete notare, dalla bruttezza, che cosa rappresentavano. Quindi Ulisse comincia a elencare i segreti che gli ha rivelato Circe. Delle sirene dal canto divino, per prima cosa, ordinava che fuggissimo, e voce, e prato fiorito. Allora, com'è la parafrasi? Qual è l'ordine giusto delle parole? Circe, soggetto sottinteso, verbo, ordinava, per prima cosa, che fuggissimo, la voce, e il prato fiorito, delle sirene. Prato fiorito è la spiaggia. A me solo, ordinava ad udire quel canto, ma voi, con legami, cioè con corde, strettissimi dovete legarmi, perché io resti fermo, in piedi sulla scarpa, cioè sulla base dell'albero maestro, dove c'è la vela più grande. A questo le corde mi attacchino. e se vi pregassi, se vi ordinassi di sciogliermi, voi con nodi più numerosi, stringetemi. Quindi, io lo so che, se ascolterò quel canto, sarò come tutti i mortali, e quindi sarò attirato irresistibilmente. Voi, e cercherò, in tutti i modi, di ordinarvi, con lo sguardo, con i gesti, di sciogliermi. Voi cosa dovete fare, rubidirmi? Assolutamente no. dovete stringermi con nodi ancora più numerosi. Così, le cose a una a una, dicendo ai compagni, parlavo. Intanto, rapidamente giunse la nave ben fatta, anche questo è un epiteto, e le navi sono sempre unero, ben fatte, concave, all'isola delle sirene, che la spingeva a buon vento. Questo che, è uguale a questo, sì, a livello grafico sì, ma significa perché. Ed ecco un tratto, il vento cessò. Quindi, gli dèi, perché per i greci, l'andare, o il posarsi del vento, sono sempre opera degli dèi, cessò. E bonaccia fu, la bonaccia è l'assenza di vento, senza fiati, senza un alito, d'aria. Addormentò l'onde un dio. E quindi, un dio chissà quale, che era quel dio che ce l'aveva a morte con Ulisse, bravi, Polifemo. E quindi, Polifemo ha la bella idea, di spegnere il motore della barca, di far posare il vento, quindi sono obbligati a passare, molto molto vicino all'isola delle sirene, molto lentamente, e ascoltarne il canto. Balzati in piedi, i compagni la vela raccolsero, e in fondo alla nave, la posero. Quindi raccolgono la vela, che tanto oramai è inutile, e la mettono sul fondo della nave. Quindi, estraggono i remi, e li mettono sugli scalmi. Gli scalmi, sono questi cosi qui. Questi supporti, che servono per infilarci il remo, e remare, fare leva. Ok? Quindi, agli scalmi seduti, imbiancavano l'acqua, con gli abeti politi. Politi vuol dire levigati. Gli abeti sono degli alberi, ce li abbiamo anche noi. E' molto bella questa immagine. Imbiancavano l'acqua, con gli abeti politi. Perché imbiancavano l'acqua? Pensateci un po'. Perché l'alzarsi e l'abbassarsi del remo, sulla superficie del mare, genera un po' di schiuma, e quindi, se noi guardiamo una nave dall'alto, una nave di rematori, vediamo questa schiuma bianca, che costituisce la sua scia. Abeti politi. Che cos'è? Sono i remi, ovviamente. Sono questi tronchi di abete, levigati a forma di remo. Abeti politi è una figura retorica, che si chiama metonimia. Cioè, che usa il materiale al posto dell'oggetto. Cioè, loro non stavano, ovviamente, remando con degli abeti. Immaginate un po', con l'alto degli alberi di Natale, con i rami, le palline, eccetera, eccetera. Ma, stanno remando con dei remi. E' solo che questa figura retorica, la metonimia, sostituisce il materiale al posto dei remi. Quindi, Omero dice, stanno remando con dei legni, con degli abeti, in realtà vuol dire che stanno remando con dei remi. C'è anche, subito dopo, la stessa figura retorica, ma una gran ruota di cera, con bronzo affilato, io tagliavo a pezzetti. Quindi, sulla nave hanno una ruota di cera, di cera d'api, e lui col bronzo affilato la tagliava a pezzettini. La sta tagliando col bronzo affilato? No, con un coltello. Il coltello è fatto di bronzo, e quindi anche qui, stessa figura retorica, il materiale, il bronzo, al posto dell'oggetto, il coltello. E li schiacciavo tra le mani gagliarde. Gagliarde vuol dire vigorose. Ulisse è un marinaio forte, che ha molta forza nelle dita. In fretta si ammorbidiva la cera, che, che qui significa ancora perché, la premeva a gran forza, e la vampa del sole. Quindi la cera si ammorbidisce per compressione, perché io la premevo con gran forza, e per temperatura. Il sole battente la sta ammorbidendo. Del sire iperione. Anche qui il sole è sempre del sire iperione. Così, in fila, gli orecchi a tutti i compagni turai, cioè tappai l'orecchia di tutti i compagni. Essi poi nella nave legarono me mani e piedi, dritto sulla scarpa dell'albero, ancora sulla base dell'albero. A questo le corde fissarono. Quindi, seduti, battevano il mare schiomoso coi remi. Ma come tanto fumo lontani, quando si arriva col grido, correndo in fretta alle sirene, allora, ma, quando, fumo così lontani, ma quanto lontani? Non ci sono i metri, i chilometri. ci usano delle misure comprensibili a tutti. Qual è questa distanza? Quanto si arriva col grido, correndo in fretta. Cioè, noi siamo arrivati in fretta, rimando, e ci siamo avvicinati quanto a distanza della voce umana. E se io urlo, chi mi sente, fino a 500 metri, fino a un chilometro, ecco, diciamo, 500 metri si sente il mio urlo. Ok? Alle sirene non sfuggì l'agile nave che si accostava. Quindi le sirene sono sempre allerta. Vedono questa nave che si avvicina, che passa molto vicina, a distanza di un grido, e un armonioso canto intonarono e cominciano, ovviamente, a tendere la loro trappola, a cantare. Qual è questo canto delle sirene? Omero ha la benevolenza di scrivercelo, di dircelo. Qui presto vieni, o glorioso Odisseo, grande vanto degli Achei. Qui si fa subito un po' di complimenti, si fanno un po' di complimenti a Ulisse, si cerca di far leva sul suo orgoglio. È glorioso, vanto degli Achei, dei greci. Ferma la nave per sentire, complimento oggetto, la nostra voce. Nessuno mai si allontana di qui con la sua nave nera, altro epiteto, se prima non sente suono di miele dal labbro nostro la voce. Poi, pieno di gioia, riparte e conoscendo più cose. Allora, vi ho segnato innanzitutto che suono di miele è un'altra figura retorica che si chiama metafora. Il suono non è di miele. Che cos'è una metafora? è una similitudine abbreviata quando io dico la gamba del tavolo. L'abbiamo già fatto tante volte in classe. Il tavolo ha delle gambe? No. Però il tavolo somiglia a un quadrupede e come un quadrupede ha le zampe, così il tavolo ha le gambe. il suono di miele è un'altra metafora. La similitudine sarebbe la voce delle sirene era dolce come il miele. Ma la metafora è una similitudine abbreviata, quindi il suono di miele. Come anche vedremo l'anno prossimo in italiano i capelli d'oro. I capelli d'oro. I capelli sono dorati? Assolutamente no. I capelli sono biondi e luccicano come l'oro. Come similitudine togliamo il come metafora. Quindi le sirene cosa promettono a Ulisse? Gli promettono di conoscere più cose. Fanno leva sul suo orgoglio e sulla sua sete di conoscenza. Sappiamo che Ulisse è una specie di aspirapolvere che gira per il Mediterraneo risucchiando ogni conoscenza possibile. Ci ricordiamo anche nel Proemio adesso lo trovo il terzo verso dell'Odissea Ulisse di molti uomini le città vide e conobbe la mente. Questa era un po' la sua missione. La missione dell'uomo secondo i greci almeno in questo eroe Ulisse è quella di vivere conoscendo più cose. Ragazzi se un giorno andate a dormire dicendovi oggi so qualcosa in più di quando mi sono alzato allora non sarà stata una giornata spesa in vano. Andiamo avanti pagina 158 noi non spaventatevi per questi appunti noi sirene tutto sappiamo siamo onniscienti sappiamo tutto quanto nell'ampia terra di Troia Argivi e Teucri patirono per volere dei numi Argivi e Teucri chi sono? Ce l'abbiamo qui Greci e Troiani i Teucri erano in realtà degli alleati dei Troiani noi tutto quindi sappiamo tutto quello che è successo alla guerra di Troia e tutte le pene che avete patito voi e i vostri nemici Troiani tutto sappiamo quello che avviene sulla terra nutrice la terra è sempre nutrice nutrice è la balia è quella che ti allatta quando sei in fascia la terra è la grande madre nelle popolazioni sudamericane si dice in spagnolo Pachamama la grande madre che nutre tutti i suoi figli e quindi le sirene si vantano di conoscere qualunque cosa così dicevano alzando la voce bellissima e allora il mio cuore voleva sentire di nuovo la sete di conoscenza insaziabile di Ulisse e imponevo ai compagni di sciogliermi poi i compagni non mi potevano sentire perché avevo tappato le orecchie con la cera e come facevo a ordinarglielo con i sopraccigli accennando con queste smorfie con i sopraccigli cercavo di ordinargli di slegarmi ma essi a corpo perduto cioè con tutte le loro forze remavano e subito alzatosi alzandosi perimede euriloco nuovi nodi legavano e ancora più mi stringevano questi due eroi questi due compagni di Ulisse perimede euriloco obbidiscono a Ulisse agli ordini precedenti e quindi quando Ulisse gli ordina di slegarli loro si alzano e lo legano ancora più forte vi ricordo ricordo che euriloco l'abbiamo già visto quando i compagni di Ulisse arrivano dalla Maga Circe perché l'unico di suoi compagni era il secondo di Ulisse era l'aiutante era il secondo in comando quando tutti i compagni entrano e accettando l'invito della Maga Circe euriloco è l'unico che non si fida e che rimane fuori è l'unico che si salve e va a avvisare Ulisse di quello che è successo ho anche un'immagine di Uliloco eccolo qui qui c'è Ulisse e qui c'è Ulilo che non vuole tagliargli la testa semplicemente un'immagine sempre un vaso a figure rosse del nostro eroe Ulisse e euriloco che ha armato ma non ce l'ha con lui che lo gli sta accanto quando alla fine le sorpassarono quindi sopassarono queste isole e ormai né voce più di sirene udivamo né canto quindi non sentivamo né la voce né il canto delle sirene in fretta la cera si tolsero i miei fedeli compagni che negli orecchi avevo a loro pigiato e dalle corde mi sciolse allora ragazzi due interpretazioni due cose da dire su questo canto la prima e la più ovvia è che questo è un canto è un capitolo sulla conoscenza sulla sete di conoscenza dell'uomo eh Ulisse in questo caso rappresenta l'uomo l'umanità Ulisse lo sappiamo è desideroso bramoso di conoscere e le sirene vedete lo invitano a sentire di nuovo il verbo conoscere il verbo sapere di nuovo la ripetizione del verbo sapere loro sanno loro conoscono ogni cosa anche Ulisse ovviamente ha l'ambizione di arrivare a quel genere di conoscenza però Omero condanna la sete di conoscenza esagerata eh i greci avevano l'idea che l'uomo deve seguire la giusta misura non bisogna mai esagerare quindi è giusto voler conoscere tante cose non è giusto voler conoscere tutto eh è giusto essere forti vantarsi di essere forti non è giusto di vantarsi di essere più forti di un dio è giusto magari vantarsi mi viene in mente il mito di Arachne Arachne era una bellissima fanciulla che si vantava di saper tessere eh di fare della stoffa eh di saper tessere in modo divino eh nessuno lei diceva né tra i mortali né tra gli dèi sapeva tessere la stoffa come lei la tesseva lei esagera eh quindi i greci la mitologia greca la punisce e eh viene trasformata in un ragno infatti chi soffre di arachnofobia proprio deriva da questa parola dal nome di questa di questo personaggio mitologico Arachne che significa ragno ok quindi Omero condanna una sete esagerata di conoscenza poi Ulisse la fa franca perché con lo stratagemma suggeritogli dalla maga Circe riesce ad ascoltare il canto delle sirene senza morire seconda interpretazione un po' più difficile c'è da imparare una parola in greco Cleos che significa fama la gloria e l'onore le sirene promettono a Ulisse di raccontargli tutto quello che è successo sulla spianata delle mura di Troia però Ulisse è appena tornato dalla guerra di Troia l'ha vissuta tutta dieci anni è durata dieci anni è rimasto lì l'ha vissuta tutta che senso ha che tentazione è promettegli di raccontargli una cosa che lui ha già vissuto in prima persona e che conosce c'è un po' una contraddizione no non è una gran tentazione come se uno ti chiamasse e dire ti racconto quello che hai fatto ieri grazie lo so so già se invece mi racconti quello che mi succederà domani magari mi interessa già di più e allora Ulisse per la prima volta ha la possibilità di sapere che è entrato nella storia che le sue gesta sono oramai immortali cioè è come se in questo caso fosse uscito il nuovo libro no? è uscito un nuovo libro dell'umanità greca e noi lo conosciamo e nel libro guarda che si parla anche di Teulis vieni un po' a sentire cosa dicono i tuoi compatrioti sulle tue gesta e su tutte le imprese eroiche che hai compiuto dall'inizio della guerra di Troia fino ad oggi e quindi Ulisse magari secondo questa interpretazione non è tanto attirato dal racconto della guerra di Troia ma dal fatto che gli avvenimenti nella guerra di Troia sono ormai diventati storia collettiva di un intero popolo in questo modo Ulisse è diventato immortale perché? perché lo sapete già per i greci l'adel al di là è il nulla non c'è una salvezza come per i cristiani l'unico modo per vivere in eterno è restare nella memoria dei vivi attraverso la fama anche oggi se ci pensate un po' così quanti si sentono realizzati dopo che magari hanno trascorso cinque minuti o dieci minuti in televisione? eh io esisto perché sono andato dieci minuti in tv prima non ero nulla nessuno mi conosceva ero soltanto io conoscevano soltanto i miei parenti i miei amici adesso mi conoscono tutti finalmente io esisto Ulisse fa un po' lo stesso ragionamento secondo questa interpretazione prima io ero soltanto uno dei tanti marinai che aveva faticato molto per tornare a casa eh i famosi nostoi cioè i racconti dei marinai i ritorni adesso non sono più un marinaio qualunque sono l'Ulisse di cui tutti in Grecia parlano e di cui tutti si ricorderanno anche quando io sarò morto nell'Ade in quel luogo di pene di tormento oscuro lontano sicuramente dall'ideale cristiano del paradiso della salvezza eccetera 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 quindi la tentazione delle sirene e il pensare che la vita umana abbia un valore solo nel racconto e nella fama eh quindi l'orgoglio di Ulisse gli dicono Ulisse viene un po' a vedere quanto sei diventato famoso viene un po' a sentire cosa raccontano di te i tuoi compagni greci che sono già a casa benissimo eh qui sotto abbiamo soltanto uno specchietto che eh riassume quello che già vi ho detto eh io finirei qui questa breve lezione vi consiglio ragazzi anzi vi obbligo vi do da fare da vedere non è una gran fatica il nostro solito eh mini film eh la nostra mini serie sull'Odissea la trovate al solito sito di RaiPlay ma comunque ve lo metto sulle indicazioni per i compiti eh episodio sei concluso il racconto delle sue peripezie dall'incontro con le sirene all'arrivo sull'isola di Calipso Ulisse fa finalmente il ritorno in patria dove incontra il figlio Telemaco il quale scogita il modo di entrare a corte e quindi lo accompagniamo Ulisse dalla fuga dall'isola di Circe alle sirene a Scille Caridi e poi alle mucbacche del Re Sole e poi all'isola dei Feaci e poi finalmente al ritorno di a Itaca e quindi chiudiamo questo lungo flashback che abbiamo cominciato all'inizio ok? bene vi ringrazio per l'attenzione ragazzi vi auguro buone vacanze e arrivederci a presto buongiorno ragazzi e benvenuti a questa nuova lezione in Grazie a tutti